Alla chiusura delle ali e a largo della prima fila il Ross degli Ulivi che assume il comando delle operazioni scendendo grattatamente allo steccando è andato a precedere Rauferm che si sistema in seconda posizione con il primo riferimento cronometrico da parte del Lidl Ross degli Ulivi in 16 e 7 ha chiuso favorito al betting Ross degli Ulivi che precede Rauferm che praticamente è il contro favorito al betting dell'operazione a precedere a loro volta Riana della Buzia 600 in 400 iniziali in 32 e mezzo da parte del Lidl Ross che comanda Rauferm, Raja della Buzia a seguire poi troviamo Resember Gianfi in quarta posizione che però viene scavalcato all'esterno da Roini con concorrenti che vanno a completare la seconda piegata con sempre Rauferm a comandare le operazioni con in seconda Rauferm Roini che avanza all'esterno il passaggio agli 800 in 1'4 e mezzo da parte del Lidl Ross e cavalli che vanno a transitare davanti alle tribune con Rolz che continua a menare la danza con in seconda posizione Rau Roini all'esterno che se la sta facendo di fuori di dentro e sempre Riana della Buzia il primo chilometro in 1'18 e 9 abbondanti con cavalli che ora vanno all'attacco della penultima piegata con sempre Rolz a comandare tallonato da Rauferm posizioni di partenza pressoché immutate Roini che se la sta facendo di fuori di dentro troviamo sempre l'uno di Riana della Buzia ora la scia di Rauferm numero 8 squalificato con Rolz che continua ad accelerare ma Rauferm non lo perde di vista 14-5 per questa frazione da parte del battistrada di Rolz degli Olivi Rolz ne segue le mosse più staccati di altri concorrenti con Roini che ha scavalcato il calante Riana della Buzia cavalli all'attacco della piegata finale in miglio in 2-4 e 2 da parte di Rolz Rolz che sposta dalla corda e ora si porta all'attacco di Rolz degli Olivi sempre un match tra questi due cavalli con Rolz degli Olivi che affronta in vantaggio l'addirittura Rauferm ci crede e ci prova all'esterno di Rolz Rolz e Rolz e Rolz che se la vanno a giocare ma sempre avere i motivi migliori Rolz degli Olivi che con il classico dei cost to cost va a siglare questa prima corsa all'ippodromo d'Abruzzo al secondo posto Rauferm precede il 5 di Remo Petral terminati nell'ordine 2-48 il tempo totale da parte del vincitore 1-16-6 il raguaglio al chilometro l'ultimo quarto in 30-15-7 per la dirittura di arrivo la vittoria facile facile per Rolz degli Olivi che ha corso da assoluto protagonista andando al comando e rimanendoci fin sul palo di arrivo con Rolz che ne ha seguito le mosse tallonandolo ma poi addirittura i motivi migliori sono stati per Rolz degli Olivi favorito a 2-29